Ok, è stato decisamente bello scoprire come vengono fatti i Katter È stato veramente bello Aia Si, è tempo di morire Congelati va, diventa un ghiacciolo E muori anche Non mi piace questo Non li vedo però in sto fumo di merda Trovato, ah vabbè era semi morto Adesso te diventi un ghiacciolo eh Guarda, guarda come diventi ghiacciolo Cazzo Ok, è morto Mori Da dove? Ah, da qua Ok Si Parla, sentiamo Cazzo 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 us we don't have much time let's keep looking this isn't the only room we'd better find her fast they are us yeah how many have I killed not knowing I did not know how can I help what do you need that is kind I don't know well then let's start by finding the Moshe if anyone can figure out what this means for the Angara I'm guessing it's her you're probably right down here founder move let's go Sam get me into that room now ok ragazzi andiamo subito salviamola almeno lei la salviamo ragazzi crepa 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 ok uccidiamo la botte va che è più veloce crepa stronzo andiamo corriamo eccoci qua apriti porta alla veloce proprio terminale no ok ascensore usa ok ci siamo andiamo e che cazzo e che cazzo dai eccoli qua eccola la poi ci sono anch'io tranquillo sono qua attaccato a loro adesso li andiamo a prendere muori ok ok quale sarebbe il chosen one ah bastardo eh sfera del cardinale immagino che devo distruggere quella dai perché ricevo colpi da dietro cazzo granata eh ah t'ho beccato a te muori t'ho visto ok vita 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 fammi prendere la vita ok dov'è quella merda umana oh eccolo qua sfera del cardinale distruggiamogliela beccati questo dai ora che sei oh merda eh vabbè ma non puoi cambiare posizioni così mi rompo un po' i coglioni eh ops cardinale fatti un po' colpire ma di già cioè ho avuto tre secondi per spararti non è valido aia dai 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 ora aia merda dai 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 aia porca puttana ok manca poco ok pompa muori brutta merda dove è andata ma dai ma sei serio ma dove oddio cazzo cazzo aia dai dai che cazzo oh merda ok saluta ripristinata perfetto ok tempo di colpire che cazzo ricarica no e che palle mi servono colpi eccoli la ok munizione raccolta perfetto vaffanculo ho fottuto cazzo di merda pongelato merda la sfera crepa 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 ok tempo tempo di colpire che palle quanta vita c'hai eh ovvio merda wow cazzo ok prendiamolo ah sei qua sotto eh mi servono un po' di colpi torniamo indietro ok munizione raccolta perfetto si vaffanculo te merda ma da dove mi arrivano i colpi fottuto stronzo crepa ok è andato oddio ho pochissima vita merda 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 lo so che devo trovare un riparo non è molto facile a volte eh ovviamente si nascondono sempre questi mostri congelati bastardo ok ok che palle giuro dai 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 eh vabbè ovvio che strano che strano l'ho già rigiocata sta roba nel senso che ormai l'ho già fatto così tante volte che giuro è odioso dopo un po' munizioni dai prendiamole crepa bastardo vabbè non me ne fotto un cazzo devo aver preso un po' di danno mammi ok col cazzo che mi hai figliato stavolta visto bastardo certo oh vai dai che è quasi andato ce l'abbiamo fatta brutta puttana di merda o quel cazzo che sei vai all'inferno stronzo vai all'inferno ok andiamo wow è stato un po' complicato eccola qua moshai scepa parliamo ho capito ci siamo fuori non è mai tornato da dietro i cattoli non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito questo posto è in alerta dovremmo uscire ora non ho capito non ho capito non ho capito hanno preso un po' di cello le vittime sono male il sistema immunitario è stato decimato non lo prenderai non lo prenderai è stato per il suo archon Sì, è venuto con noi. Sì, voglio sapere perché l'Archon? Arrogantissimi, questo è un sacco. Chi è tu che dimenticare? Tu ti rendi in gli monstri che combattono le loro persone. Questi chiusi con noi per diventare un grande per il vostro capito di capire. Come loro, io ero un po' vecchio. e il DNA exultato del nostro grande Archon si tratta con me. Sto facendo sull'escizio di grandezza, come si sono. Come un giorno, ti saranno. Soprattutto che io mi f*** il tuo shit. Come si è per grande. Pathfinder, I am tracciando molti inbound Kett cruisers. Ti saranno tutti exultati. Sam, is there an off switch to this horror palace? I've accessed the EM field, I can overload at your command You promised you would get our people out There's no time to open hundreds of pods, let alone help the Angara inside Wait, leave my sacred temple intact and I will open the pods of the Chosen Take them, just leave this holy place standing No, even if I die here, this place must be destroyed We can come back to destroy it, let's free these here now If your plan fails, the Kett will simply fill this place again With respect, our compatriots are also here, our fighters, our scientists, our strength Alright, release the Angara below Enact emergency shutdown, release all the Chosen Jal, have the Resistance free as many as they can before the Kett arrive I will, and thank you I thank you too I see you begin to understand the gift that the Kett bring to all and from it Not likely She deserves much worse We have the Mausai, heading to the roof for extraction Ok, ci siamo Mi è piaciuta la cosa che ho fatto, sinceramente Ok Mamma mia, è pieno di Kett ancora Ci diamoli Aiuto Che cazzo succede? Ok, scudo Ok, andiamo Crepa Eh, lo scudo vi piace? Vero che vi piace, po' tutti i Kett? Muori, stronzo Vai, vai, spingi, spingi Che andiamo noi Congela Ah Ciao Puttana di merda Schifoso cazzo Andiamo Distruggiamoli tutti Eccolo qua Uh, bel pugno in faccia Vuoi pugno Lamata Oh cazzo Vabbè Scusa Ok, ci siamo Sì, è qua 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 Ah beh Possiamo anche distruggirlo Ecco lì che arrivano Ok, abbiamo uno scudo Ok Che cazzo è? Oh mio dio Che cosa minchia sei tu? Ditemi che lo posso ganciare Oddio Sparateli tutti A sto robo Cazzo ho paura Cazzo ho paura Aia Dai Oddio Si è incazzato Aiuto Qualcuno mi dia una mano Non mi piace Dai No Non bloccato qui Non bloccato qua Non bloccato qua Crepa 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 Ok Oh Che cazzo è successo Crepa 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 Cazzo devo resistere Ancora 14 secondi Vediamo se ce la facciamo ucciderlo Dai L'abbiamo anche ucciso Vai così Non bloccato Non bloccato Non bloccato Non bloccato Non bloccato Eh si è quello che vorrei fare da 20 minuti Lasciare sto posto Uccidere tutti i cat e lasciare sto posto Possiamo lasciare il posto Ok Ancora Ancora un altro Non bloccato Non bloccato Get her on the shuttle Now Resistance squad Come in Here We're making good time Get your team out before the kit arrive Don't worry We go this No I'm sorry we fought What we saw will set our cause on fire Yes My broken heart can't even process it Lexi, can you give us a minute? Sure thing But go gentle She's in a fragile state Did she just call me frail? Fragile Jarl says you're a pathfinder from the Milky Way Do you feel up for a talk? Ah, so now you value what I have to say I feel for you, but I don't regret my decision Then your sympathy is empty So the facility, what's the purpose of all that? They call it exaltation They believe that those they exalt are given a great gift Gift? They snatch us Defile and shatter us All the ones we love I... I can't It's a complex genetic construct An interchange of traits that the Kett used to advance their species So they steal genes But why? Reproduction Domination Tyranny Annihilation Yes And yet The Archon didn't take me to his ship to transform me I hung immobile Tormented Never sleeping Brought to him on a whim He showed me Remnant tech And beat me when I wouldn't speak Oh no Remnant, of course He's obsessed Like you are Yes, Jarl told me You rescued me hoping to get into Ai's vault My people have traveled so far We'll die without a place to settle These Remnant vaults may be the key A key to help both our species prosper I feel for your people In a way that you clearly do not for mine But emotion must never get in the way of science I'll take you Thank you Yes Thank you Moshe Sefa I'm happy to answer any other questions for you Pathfinder Anytime Ok, perfetto ragazzi L'abbiamo salvata Tutto a posto Ed è lì che dorme Vai così Va bene ragazzi Direi che per questo episodio di Mass Effect Andromeda è tutto Come sempre Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Commentate e iscrivetevi Vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook E sul secondo canale Link in descrizione Detto questo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi